L'orologio è una piccola macchina perfetta. Il meccanismo che mi affascina gli orologi è la carica. La carica manuale o automatica. Quei mille ingranaggi che ci sono dentro, le rotelline, le vetine, i rubini, montati tutti a mano e che vanno per l'eternità. Gli orologi vanno di tradizione in tradizione, di padre in figlio, anzi, più vecchi sono, più ricercati e più valore acquistano anche nel tempo. Tutti hanno una storia, hanno vissuto un tempo in determinate situazioni. Io prendo poi sempre la fittonata o un orologio. La perfezione di una macchina che puoi indossare al polso è la cosa che mi affascina di più. Un aggiornamento in tempo reale di tutti i fatti e avvenimenti che accadono nel mio territorio.